Da 28 anni i piacentini nel mondo si ritrovano insieme nelle loro zone di origine. Quest'anno la festa è in corso al Parco del Monte Moria con la premiazione dei piacentini benemeriti Renzo Inzani e Gianfranco Gazzola. A Genas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha coinvolto due professionisti piacentini, l'oncologo Luigi Cavanna e l'ematologa Costanza Bosi, nell'elaborazione delle linee guida sull'integrazione ospedale-territorio in oncologia. Successo per la nuova collocazione del cinema sotto le stelle nel mese di luglio all'Arena Cantore sullo Stradone Farnese, in media si sono registrate 100 presenti ogni sera. Aurelio Galep-Galepini, creatore di Tex Wheeler, disegnava Campofrati, dove oggi, a 30 anni dalla sua morte, i suoi nipoti Sergio e Lucia Quattrini lo ricordano con affetto. Galep è considerato un monumento del fumetto italiano. I migliaia ieri sera a Rivergaro hanno cantato e ballato i successi del passato con lo show Voglio Tornare negli anni 90. Tutte le altre notizie in tempo reale sul nostro sito liberta.it